Ciao a tutti e ben ritrovati. Dopo avervi pubblicato una serie di video molto complessi, ma anche preziosi dal punto di vista delle informazioni, però extracampo, quindi l'impatto a bilancio del calciomercato della Roma, della Juventus, dell'Inter, i costi rosa dell'Inter, il rendiconto finanziario dell'Inter per capire quanti soldi veramente l'Inter ha in cassa, i ricavi della nuova Champions, insomma tanti argomenti succulenti, belli, complessi e spero che abbiate visto questi video, se non l'avete fatto riprendeteli perché vale la pena e sono molto importanti, non ammetto che chi mi segue di solito venga fuori fra qualche settimana e fa domande a cui ho risposto in questi video, perché questi video vanno visti. Adesso però torniamo sul campo, torniamo non tanto con un'analisi tattica a questo giro, ma un'analisi tecnica, quindi un confronto tra vari giocatori soprattutto legati a un ruolo, il ruolo dell'esterno destro nell'Inter, che secondo me è un ruolo che, ve l'ho detto da più riprese, io avrei cercato in qualche modo di migliorare durante questi ultimi calci mercato, calcio mercati, calci mercato, insomma no? Questi ultimi due anni per vari motivi, ma oggi voglio vedere insieme a voi questi motivi con i dati, con i numeri diciamo no? Anche recentemente molte volte ho parlato magari di Darmianna, di Dumfries, della gestione, delle gerarchie anche di questi giocatori, oggi cerchiamo di vedere i dati, i dati, quindi lasciamo stare le impressioni, i luoghi comuni, le narrazioni, quello che si dice, questo è più solido, quell'altro è meno solido, questo è, guardiamo i numeri, i dati di questi giocatori. Vi ricordo di lasciare like al video, mi raccomando, condividetelo, diffondete e iscrivetevi al canale. Ora io mi sposto, eccoci qua, e cominciamo dal primo tool, poi ne metterò insieme vari, proprio per avere anche più visioni e più dati possibili a confronto, ok? Tra i vari giocatori. Vi consiglio di girare lo schermo e mettere tutto a schermo, soprattutto dopo quando vedremo molti più dati e saranno magari un po' più piccolini, ok? E attivate la qualità massima anche, che vi aiuta a guardare meglio, vedere meglio. Ora andiamo su, appunto, il primo confronto è Darmian Dunfrey, sono i giocatori che attualmente sono, diciamo, come esterni destri disponibili all'Inter, per capire un po' che gerarchie, cosa ci manca, come siamo messi e quale sarebbe meglio usare, di solito, che non vuol dire che va sempre usato solo uno e l'altro deve sempre, non deve più giocare o va in panchina, ma bisogna capire un po' la gerarchia, diciamo, cosa può darci uno o l'altro. Bene, vedete, già la prima cosa, la differenza, gli anni, vabbè, Darmian ne ha 34, va per i 35 tra 2-3 mesi, Dunfrey ne ha 28, vabbè, vediamo i centimetri, poi c'è un average, un average, vedete, un punteggio, Darmian 6.82, Dunfrey 6.92, quindi Dunfrey è superiore. Cosa vuol dire? Superiore di 0.10 e tanto e poco? Lo scopriremo dopo. Intanto andiamo a vedere i dati, le cose concrete. La prima cosa interessante è vedere le hitmap, cioè il movimento di questi giocatori. Questo è riguardante l'intera stagione passata, perché è inutile fare i confronti su questa stagione che ha visto due partite, di cui uno dei due ha giocato 30 minuti. Non ha senso, non è un pool di caratteristiche, di statistiche sufficiente, bisogna confrontare su un arco temporale un po' più paragonabile, no? Quindi la scorsa stagione penso che sia abbastanza, voglio dire, indicativa. Dicevo, queste le hitmap, la prima differenza che vediamo è che Dunfrey, la parte destra, tende a stare un po' più esterno di Darmian, ad arrivare di più in area e ad avere una copertura di tutta la fascia, omogenea dalla difesa all'attacco. Vedete che c'è la parte rossa di qua, di là, spesso arriva anche dentro l'area avversaria, l'area avversaria è a destra, l'area nostra è a sinistra, mentre Darmian ha un posizionamento un po' più posizionale, che fa tipo a campana, la maggior parte è al centrocampo, quindi un pochino più statico. Certo, comunque, ricopre un ruolo di esterno, quindi lungo la fascia, però vediamo che il tempo, diciamo, in cui lui staziona proprio al centro del campo è maggioritario, assoluto, e anche un pochino in difesa. Vabbè, comunque, questa è già una piccolissima differenza su, diciamo, lo spazio che vanno a percorrere e anche quanto coprono di questa fascia. Abbiamo già una piccola differenza. Andiamo adesso a vederci un po' di numeri. metto gli occhiali perché la vecchiaia galoppa e soprattutto in questi giorni, che sono giorni passati, questo video lo vedrete molto dopo che l'ho registrato, ma in questi giorni sto registrando un sacco di video contemporaneamente e sono abbastanza stanco, gli occhi veramente caputti. Allora, vediamoci i primi dati. Minuto di partita, ok, diciamo che sono paragonabili, no? E quindi questo vuol dire che le statistiche sono sensate. Non è che hai da una parte uno che ha fatto 33 presenze con 70 minuti di partita, all'altra parte uno che ne ha fatte 8 presenze con in media 5 minuti. No, diciamo che i numeri sono abbastanza poderosi, 31 partite, 53 minuti di media è una statistica abbastanza probante. Quindi su questo la trasparenza c'è. Vediamo che però, pur avendo giocato meno di Darmian, ha fatto il doppio dei gol, quindi 4 gol contro due assist. I gol attesi, quindi di fatto, diciamo le azioni anche pericolose che è riuscito a svolgere, la pericolosità che porta di Dunfries è doppia rispetto a quella di Darmian, 2.27 e questo è in assoluto legato a tutti i minuti che fa, però vediamo che Dunfries comunque ha giocato meno di Darmian e ha fatto il doppio di pericolosità e di gol. Già questo ci dice molto, è un giocatore sicuramente che porta molto più presenza e più pericolosità alla squadra rispetto a Darmian, appunto. E andiamo a vederci altri dati. Allora, andiamo su, vabbè, i passaggi qui è un po' scarno, è un po' scarno questo tool, lo vedremo meglio anche dopo, approfondiremo un po' di più. Sui passaggi vi dico già che Darmian è superiore tendenzialmente come precisione, però quello lo vedremo. Stando su, diciamo, lo score, per esempio gli assist, qui abbiamo quattro assist su Dunfries contro uno di Darmian, quindi è quattro volte più pericoloso in assoluto, in relativo anche sei volte, sette volte, no, perché ha giocato meno. Gli assist a partita, a partita di Darmian sono zero, Dunfries 3,1, assist previsti, vedete che Dunfries comunque, insomma, ne fa più del doppio di Darmian, quasi il triplo, e le grandi opportunità create sono sei Dunfries contro una di Darmian. I cross, sui cross abbiamo Dunfries che crossa un po' di più, ma è un po' più impreciso, quindi ecco qua già vi anticipavo prima il fatto che Darmian è un po' più tecnica, non è un giocatore molto tecnico, però è un giocatore che ha più tecnica di Dunfries, diciamo che Dunfries, la qualità di Dunfries non è delle migliori, per usare un eufemismo, quindi è un punto debole assolutamente, dove su questo Darmian è migliore, però nonostante sia più preciso Darmian nei passaggi, poi lo vedremo, e anche comunque negli assist è più preciso, però ne fa molti meno, e quindi poi il risultato finale è che è molto meno pericoloso. In difesa, questo è molto interessante perché andiamo già a scardinare qualche luogo comune che ahimè viene ripetuto un po' a pappagallo, ma la gente non guarda i dati, questo è un problema. Allora, intercetti siamo lì, contrasti Darmian ne fa di più, 1,5 contro 0,7, quindi Darmian fa più contrasti di Dunfries, comunque ne tenta di più. Questo bisogna anche poi interpretarli i dati, ovviamente, bisogna solo leggerli, è probabile che magari sia più preciso nei contrasti, ha più lettura, essendo anche un giocatore che può giocare anche difensore, ha più lettura, però è probabile che vedendo anche la heatmap, giocando un po' più posizionale, giocando un po' più dietro, abbia anche più occasione di fare azioni difensive e fare contrasti rispetto a Dunfries che comunque spesso si porta anche in avanti e quindi poi non rimane dietro pronto a fare il contrasto, a fare da baluardo difensivo, quindi c'è anche un po' da pesare questa cosa. Non giungiamo alla conclusione che Darmian è il doppio più bravo di Dunfries nel fare i contrasti, può essere un po' più bravo, ma non è detto che sia appunto il doppio. Dribbling subiti, questa è una cosa molto interessante, molto interessante. Darmian è solidissimo, in realtà Darmian subisce il doppio dei dribbling rispetto a Dunfries. Il doppio, ragazzi, il doppio, e questo secondo me è legato soprattutto all'atletismo del giocatore. Dunfries è un giocatore comunque rapido, comunque più rapido di Darmian, più atletico, più veloce, più fisico anche come gambe per rispondere a un cambio di direzione, eccetera. Darmian questa cosa invece la patisce. Dunfries a Dunfries non è facile andare via quanto a Darmian. Darmian se viene puntato tendenzialmente subisce molti dribbling, quindi altro che è solido, non passa nessuno, in realtà no. Molto spesso, infatti, e questo lo vediamo dal fatto della statistica dopo, salvataggi, in parte è correlata a questo che sto per dire. Cioè Darmian molte volte, infatti, proprio perché subisce chi lo punta, subisce dribbling, tendenzialmente sta più dietro. Non va a contrasto, cioè non va a sfidare il giocatore, non accetta il duello, ma tende ad andare in copertura, a stare più distante dall'avversario e a seguirlo. Però in questo modo, diciamo, magari cerca di subire meno dribbling in questo modo e cerca di aspettare magari il raddoppio della mezzala, oppure del braccetto, però è anche vero che in questo modo si dà campo all'avversario, quindi pro e contro. Infatti, appunto, vediamo i salvataggi di Darmian sono maggiori. Anche qua, doppia lettura sia perché secondo me Darmian è più bravo nella lettura difensiva, nell'attenzione, nella lettura, però anche perché appunto quando sei molto più in copertura è facile che tu possa fare dei salvataggi, proprio perché sei in una posizione che ti permette di, diciamo, di intercettare, di parare qualche tiro, eccetera, eccetera. Sì, vabbè, tiri bloccati, vince Dunfries e quello è proprio per la reattività in realtà, cioè quando il giocatore si accentra e sfida l'uomo, sfida Dunfries e va al tiro, Dunfries è difficile passarlo, riesce a metterci il piede e invece su Darmian magari il giocatore va proprio, riesce a superarlo e quindi ecco i dribbling, i dribbling subiti e i tiri bloccati di Darmian sono relativamente pochi. Andiamo avanti, questo invece diciamo in attacco, i dribbling riusciti, abbiamo 0.2 di Darmian, quindi di fatto è pochissimo, praticamente non dribbla mai, se no in eccezioni rare, dove per puro caso va via un giocatore perché fa un giocatore pressa sbagliato, ecco 0.2 è un risultato frizionale, è un risultato da difensore centrale, i difensori centrali dribblano 0.2, ma proprio quelli che non dribblano proprio, cioè non bis, è proprio quelli che proprio non dribblano mai. Mentre i dribbling riusciti di Dunfries sono più del doppio, che comunque è un risultato magro, 0.5, 0.5, non dribbla, non è un dribblatore, uno che 0.5 a partita non è un grande dato, non è un grande dato soprattutto per un esterno, però almeno Dunfries 0.5 e il 53% li fa giusti diciamo così, quindi di fatto lui ne prova 0.9 a partita e appunto ne realizza 0.5. Nel caso di Armian invece ne prova 0.5, diciamo così, 0.6, 0.5 e ne riescono 0.2, quindi non solo ne prova meno, ma in più ne riesce a fare anche meno, cioè ne prova meno e di quelli ancora meno di Dunfries riesce a portarne a termine. I contrasti a terra sono simili, i contrasti aerei invece non c'è paragone, Dunfries ne vince il doppio rispetto ad Armian e questa è una cosa che si può utilizzare sia a livello difensivo, sia a livello offensivo. Pensiamo ai quinti, quanto sono importanti in questa cosa qua, sia nella diagonale, in area nostra per difendere eccetera, ma anche per andare poi a battere rete sul famoso secondo palo. I contrasti aerei vinti servono proprio nei momenti in cui non sei da solo, ricordiamoci che Armian ha fatto gol qualche settimana fa, qualche giorno fa, su colpo di testa, ma non ha dovuto fare un contrasto, era da solo. Ma quante volte capita che sei completamente da solo davanti alla porta? La maggior parte, cioè il 90% delle volte, tu invece sei marcato, o almeno sei disturbato o seguito da un terzino, da un difensore. Ecco, lì è importante avere i contrasti aerei, riuscire a superare, a vincere il duello. Se non sei capace di vincere il duello, tendenzialmente appena sei un attimo, cioè se sei da solo riesci a colpirla, se non sei da solo non riesci a colpirla. Quindi ecco, a queste sono le statistiche, a guardare non l'eccezione, ma a capire il trend delle cose, perché è quello che poi conta nella stagione, non nella singola partita, ma nella stagione. Possesso perso, siamo lì, si pensa ad un frisperato, un sacco di palloni, ma alla fine siamo lì con Darbian, 7.2, 7.7. I falli sono simili, i falli subiti, ne subisce di più Dunfriss, perché è un giocatore che portandosi più davanti, correndo di più sulla fascia, eccetera, 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 tendenzialmente porta pericolosità e quindi subisce più falli. E il subire falli è una cosa positiva, nel senso che porta il possesso alla propria squadra. Punizioni, calcio d'angoli, rigori, eccetera, magari fai prendere cartellini altra squadra, eccetera, eccetera. Quindi anche su questo Dunfriss, diciamo, vince. Quindi facendo un po' la summa, la summa, c'è poco da fare. Mi sembra che fossero sei caratteristiche, togliendo cose che non hanno molto senso, tipo le presenze, che non c'entra niente, caratteristiche vere e proprie, siamo sei, mi pare, contro dieci o undici di Dunfriss. Quindi stando a questi dati non c'è paragone, nel senso che Dunfriss non è appunto un fenomeno, però è migliore di Darmian, pur con i suoi difetti, i passaggi, le sue cose dove difetta un po', o dove Darmian è superiore nella lettura, eccetera, pur considerando i difetti di Dunfriss, comunque, comunque la media generale è superiore, il rendimento generale è superiore rispetto a quello di Darmian, ok? Cose che ho detto anche nei mesi, eccetera, però un conto è dirle, un conto è mostrarle. Magari adesso quel cosa in più entra, diciamo così, no? Come messaggio. E soprattutto abbiamo visto dei dati che tendenzialmente non si, come? Non si pensano, quanti dribbling subiti da Darmian, Dunfriss, no, no, Darmian è molto più solido, eh, eh, ni, i dati sono diversi, i duelli aerei, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. E questa è la, diciamo, la prima cosa. Quindi diciamo che questo 0-10 di differenza sul rating, ecco, andiamo a contestualizzarlo, andiamo a contestualizzarlo, non è, non è tantissimo, però non è neanche poco, poco, sempre, poi se consideriamo che Dunfriss l'anno scorso abbiamo preso un riferimento di una stagione che non è che abbia performato tantissimo, ha avuto un infortunio, eccetera, eccetera, quindi non è che abbiamo preso la miglior stagione di Dunfriss contro la peggiore Darmian, assolutamente no. Quindi questo è. Per provocazione, per provocazione vi faccio vedere un altro, un altro giocatore, sempre l'anno scorso, sempre l'anno scorso, 2034, Raul Bellanova, un giocatore che era all'Inter e quindi giocava, che ha giocato nello stesso ruolo dell'Inter, che conosce l'anno scorso, non il Torino, eccetera, eccetera, però l'anno scorso ha giocato, differentemente da noi che ha giocato pochissimo e quindi le statistiche valgono poco, l'anno scorso ha giocato moltissimo perché vedete 83 minuti a partita, 37 presenze, quindi i dati sono assolutamente provanti, vedete la heatmap è ancora più spregiudicata di quella di Dunfriss perché è ancora più offensivo, copre tutta la fascia in maniera omogenea, cioè difesa, centrocampo, tre quarti, attacco, c'è a go-go, fino alla bandierina fa su e giù in maniera costante e completa, il punteggio leverage è di 10 punti superiore a quello di Dunfriss, che era 10 punti superiore a quello di Darmianna e ci sono varie, diciamo, varie statistiche, insomma, positive, guardate, le positive sono praticamente tutte, su ogni cosa vince, su ogni cosa, no? Anche i dribbling riusciti, ecco, prima vi ricordate Dunfriss che era 0.5 al 53%, qui abbiamo 1.2 al 55%, quindi dribbla più del doppio di Dunfriss, bella nova, ok? Eccetera, anche contrasti vinti a terra, 3.5 contro 1.9 di Darmianna, per dire, contrasti aere vinti, non è come Dunfriss, su questa cosa, bella nova, costando che è un metro e novanta, deve migliorare, però comunque è superiore a Darmianna, eccetera, falli subiti, 1.4, Dunfriss era 0.6, bella nova subisce più del doppio dei falli di Dunfriss, che subiva il doppio dei falli di Darmianna, per esempio, no? Eccetera, eccetera, insomma, abbiamo varie statistiche, cross, ne fa molti, non precisissimi, ma quando ne fai tanti è chiaro che si bassa anche un po' la precisione, sicuramente è un dato comunque migliorabile, assist previsti, assist generati, eccetera, eccetera, con l'attesi e via. Quindi, insomma, no, per dire, se basassimo un po' di più sui dati invece che sulle impressioni, magari potremmo essere, potremmo evitarci qualche luogo comune, impressioni, un po' così e via. Andiamo a un altro grafico, altro tool, altro grafico, qui abbiamo, diciamo, il confronto tra Darmianna, facciamo così, questo è Darmianna, di partenza, ok? Duelli aerei, duelli generali, il portare la palla, quindi dribbling, portare palla, vedete che Darmianna è tendente allo zero, sui cross invece la personale di cross è molto buona, attenzione, questo grafico non è in assoluto, ma è in relazione a un terzino, ok? Quindi quando sei tanto qui non vuol dire che fai più cross di tutti i giocatori, ma vuol dire che per essere un terzino fai tanti cross, oppure li fai molto bene, ok? Ricordiamoci che però i giocatori dell'Inter sono terzini ma sono quinti, quindi questa cosa va un pochetto a sfalsare, nel senso che è chiaro che un quinto fa molti più cross di un terzino, tendenzialmente, quindi bisogna un po' soppesare la cosa, però, ecco, ricordiamoci questo. Questo è, questi sono i passaggi progressivi, numero di assist, questa è la parte della difesa, andiamo ad aggiungerci Dumfries, sempre nel 23-24. Questo è Dumfries, questo in giallo, differenza notevole, no? Molti più assist, la percentuale di cross cala, è inferiore, è meno preciso, però è molto più abile di Darmianna a portare il pallone, a dribblare, vince assolutamente sui duelli aerei, vince assolutamente sui duelli in generale, perde leggermente sui passaggi progressivi, quindi la precisione, insomma, di passaggi in avanti, infatti spesso Dumfries qualità un po' così spassa la palla indietro e in difesa è un po' inferiore, magari nella lettura, come abbiamo visto, no? Quindi sono strumenti diversi, ma che ci danno un po' i risultati che abbiamo visto prima. Aggiungiamoci adesso Bellanova, sempre a 23-24 e questa è Bellanova, capite? Quindi qua abbiamo i duelli aerei che è simile a Darmianna, abbiamo i duelli anche a terra, insomma, simile mi sembra a Darmianna, a livello difensivo sì, bisogna migliorare, i passaggi progressivi però, quindi la qualità, la qualità, la tecnica è superiore, superiore a tutti, a Darmianna e anche a Dumfries, gli assist sono molto buoni, i cross sono anche quelli molto buoni, si possono migliorare, ma in rapporto a quanti ne vengono eseguiti, comunque la percentuale è buona, considerando che ne esegue un sacco, quindi è più difficile farne un sacco, tutti giusti, e soprattutto il portare la palla, il saltare l'uomo, il dribbling, la corsa con la palla, eccetera, è eccezionale, eccezionale, per essere appunto un terzino. Questi sono altri dati, diciamo, in forma di grafico, quindi anche questo può aiutare. Se non siamo contenti possiamo vedere un altro tool che uso, dove sono molti più dati, molto più numerici, diciamo, un po' più da nerd, però anche questo aiuta, e andiamo a integrare anche qualcosina che mancava, per esempio, per esempio, tiri, questo c'è Darmianna e Dumfries, i tiri, diciamo, in, i tiri, insomma, per 90 minuti, ecco, quanti tiri vengono abituati, quindi la pericolosità, il fatto che uno arrivi in porta, eccetera, eccetera, sono 0,46 di Darmian contro 1,42 di Dumfries. Dumfries arriva a fare più, cioè quasi, cioè più del triplo dei tiri di Darmian, per esempio, no? Vedete anche le XG, eccetera, eccetera. Sui passaggi, prima dicevo che Darmian effettivamente ha più tecnica di Dumfries, non perché sia iper tecnico, ma perché Dumfries, chiaramente, sulla tecnica è molto deficitario. Ah, mi ricordo che più di qualcuno diceva che Bellanova fosse uno scarpone, tecnicamente, non so, anche qua, da dove venga fuori questa cosa, le impressioni giocano dei bruttissimi scherzi, io continuo a ripetere, non affidiamoci a, lo dice tizio, l'ho visto scritto da qualche parte, l'ho sentito, l'ho sentito nella mia anima, o altre cazzate, o mi par di averlo visto. I dati, i dati, per favore. Quindi, Bellanova, tecnica superiore a Dumfries, per esempio, vabbè, comunque, anche Darmian c'è la superiore a Dumfries, chiaramente fa anche passaggi più semplici a volte, perché spesso è più posizionale, come abbiamo visto in campo, quindi gioca più a centrocampo, è un passaggio più facile, tra virgolette, Dumfries andando su e giù dalla fascia, andando in avanti, anche, è chiaro che è più difficile fare passaggi quando sei sulla tre quarti o in fondo, rispetto a quando sei in mezzo al campo. Però, comunque, il distacco di percentuale è notevole, quindi, in parte, è variconsiderato, considerando che Dumfries giochi in zone più complicate rispetto ad Armian. Però è anche vero che, comunque, la percentuale è bassa, 75% di precisione contro 84%. Diciamo che se giocassero, facciamo una stima, nella stessa posizione, con la stessa posizione sul campo, probabilmente avremo, Armian, che andrebbe, non so, a 80%, più che 84,4%, però, comunque, sarebbe superiore a Dumfries, io credo. Questa è, chiaramente, una stima, non è una cosa che possiamo vedere, purtroppo, ma è una stima mia. Però, sicuramente, è superiore. Dumfries, a livello qualitativo, nei controlli e soprattutto nei passaggi, eccetera, è veramente, è il suo punto debole. Per fortuna compensa in altre cose e, alla fine, ripeto, supera comunque d'Armian, però, dei limiti li ha, indiscutibilmente. In che altro possiamo vedere di interessante? Azioni difensive. I contrasti, chiaramente, ok. Sul processo palla, sempre per questo è per 90 minuti, è sempre, non in assoluto, ma il valore è per 90 minuti. Qua vediamo, ovviamente, che Dumfries, molte più volte rispetto a Darmian, riesce a tenere la palla e a superare l'avversario. Darmian, 0,84 volte a partita, Dumfries, quasi due. Quindi, sicuramente, su questo, abbiamo visto anche prima, in forma diversa, con altri tool, ma, alla fine, i dati quelli sono. Cambiano di poco. Di fatto, Dumfries è più bravo a portare la palla, a superare l'avversario. Non solo Darmian lo fa molto meno, ma anche la percentuale di successo di quelle poche volte è anche inferiore, al 34%, contro il 42% di Dumfries. La maggior parte delle volte Darmian è arrestato, non so come dire, è contrastato. Mentre su Dumfries succede meno, perché riesce ad andare un po' più via, ad essere un po' meno contrastato. 57% Darmian contro il 40% di Dumfries. Cos'altro possiamo vedere di interessante? I falli subiti, ecco, e anche i falli fatti. Dumfries è un po' più falloso di Darmian, e però subisce anche più falli, quindi, ecco, un po' più spregiudicato, se vogliamo. E nei duelli aerei, come abbiamo visto anche prima, c'è poco da fare, perché abbiamo qui Dumfries, che ne vince notevolmente di più di Darmian, ma soprattutto ne tenta di più. specifico una cosa, l'ho detto anche prima, più tenti una giocata, più fai passaggi, più metti cross, più tenti duelli, chiaramente, più ti metti a... diciamo, più accetti un duello, e più la percentuale tendenzialmente si va un po' ad abbassare, no? È inevitabile. Quando ne tenti pochissimi duelli, è perché tenti quelli che sei sicuro un po', e poco coraggio, sei sicuro di vincerli, quindi magari si alza un po' la percentuale. Quindi il fatto, da parte di Dumfries, di tentarne più del doppio di Darmian, e di vincerne comunque in percentuale, non in assoluto che è ovvio, ma in percentuale di più di Darmian, è un grosso divario. Un grosso divario. Vuol dire che proprio, dal punto di vista fisico, non c'è proprio paragone tra i due, a livello di contrasti aerei, il contrasto a livello di portare il pallone, eccetera, di essere superati da un avversario oppure no, e via. E, ultimo dato che non vi ho fatto vedere, ma ve lo dico, è il dato della velocità. Dumfries arriva, tranquillamente, sui 34 km orari, più o meno, come picco, e Darmian 6 sui 32 di solito, tendenzialmente. E oltre a quello, poi un dato che non possiamo misurare, ma è l'accelerazione, probabilmente anche quello fa la differenza, ed è quello che spiega anche il fatto che uno venga superato più spesso, l'altro meno, eccetera, eccetera. Quindi anche su quello, Dumfries sicuramente batte Darmian. E queste cose, poi l'ultima cosa che voglio dire è che ci sono dati, in base alla posizione che ricopri in campo, che contano di più di altri. Cioè, la velocità, per un difensore centrale, il perno centrale dei tre, oppure anche per il regista, per dire, sì, beh, è sempre meglio averla, però se non sei velocissimo, vabbè, diciamo che puoi sopperire con tante altre cose, l'attenzione, l'esperienza, il posizionamento, i compagni che sono, vabbè, l'aspetto tattico e via. In alcuni ruoli invece, non so, per esempio la velocità è un dato fondamentale. Per un esterno, avere un esterno lento è un problema, è un problema perché non puoi fare dribbling, non puoi lanciare il pallone in avanti, fare filtranti, correre nello spazio, non puoi recuperare, magari nella ripartenza, tornando indietro e andando a recuperare l'avversario, vieni saltato facilmente e eccetera, 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 no? Magari, poi c'è anche la resistenza e via, no? Quindi, ci sono certe cose che contano molto, la qualità di fare i cross, la tecnica di fare i dribbling, eccetera, eccetera, dipende dal ruolo. Ecco, diciamo che quindi, facendo poi la somma finale, ecco, sui, e torno, torno in me, ecco qua, sui, sulle caratteristiche principali che contano per un esterno, possiamo dire che la differenza forse è ancora maggiore tra Doomfries e Darmian, no? Perché la fisicità, la velocità, l'attaccare la profondità, i contrasti aerei, sappiamo quanto è importante per un quinto, quindi, su tutte, già in senso generale, diciamo, il rating, come avete visto qua, di uno e dell'altro, sono superiori, questo è, vabbè, è vela nuova, ma, vi ricordate Doomfries, se però andiamo a contestualizzare i dati in base a quello che è il ruolo, che è quello che fa, che fa il, ah, ho tolto, che è quello che fa questo grafico, questi qua erano, dicevo, le medie, no? Questo è il grafico, questo è contestualizzato sul ruolo, allora, alcune cose vengono ancora più esacerbate, no? Ancora più, ehm, evidenziate. Quindi, a conclusione, che era quello che ho già detto più volte, ecco, Darmian sicuramente ha delle qualità, le sue qualità sono il fatto, comunque, che è una persona attenta, è un bravissimo professionista, è un uomo anche spogliatoio, è sempre comunque attento, quando, quando viene chiamato in causa, lui è disponibile, fa più cose, ha un rendimento molto costante, ha pochi alti, e anche pochi bassi, però, quindi è molto costante, ha un giocatore di garanzia, ehm, però, il trend, il trend di Darmian, sul lungo termine, sulle partite, sulla stagione, è comunque inferiore, cioè, giocando con Darmian in maniera, diciamo, strutturale, quasi fissa, rispetto a Dumfries, ci perdiamo, ci perdiamo sul campo, non magari nella singola partita, ci può stare la singola partita, in cui Darmian fa meglio di Dumfries, il punto non è la singola partita, è, nel complesso, le partite, non ce n'è una partita all'anno, ci sono 50 partite all'anno, se uno mi dà una differenza, del 5%, in media, per partita, moltiplicato per 50 partite, però, è una differenza sostanziale, che tu hai, e dai alla squadra, non so se si capisce, il senso di questa, di questa cosa qua, ed è per quello che ho fatto, ho realizzato anche questo video, per far capire che non ce l'ho, con un giocatore, ecco, ma, guardo i dati, e poi ragiono, a livello, statistico, poi chiaramente, vanno considerate, delle cose che a volte i dati, fanno fatica a dirti, cioè, appunto, la disponibilità, l'attenzione, però in realtà, è tutto misurabile, c'è l'attenzione, del giocatore in campo, la puoi, la puoi ricavare, dagli intercetti, dai salvataggi, da alcuni dati, anche, soprattutto quando sono, tu gli un po' più completi, si può ricavare, è vero che non c'è, la scritta, concentrazione, ma la concentrazione, ti porta, ad avere, una serie di dati, quindi non è che, ci sono delle cose, eh, vabbè, ma i dati non ti dicono tutto, come se ti dicessero poco, si può quasi tutto capire dai dati, quasi tutto, è pochissimo, quello che non riesce a capire con i dati, però, cerchiamo di soppesarlo, quindi ho detto, appunto, il fatto del, della costanza di Darmian, dell'affidabilità, è una cosa che va sicuramente, tenuta in considerazione, se lo tenessi in considerazione, avrei detto, vabbè, è inferiore ad un fridge, benissimo, non rinnoviamolo, e invece, nella proposta di mercato, ho proprio detto, invece, rinnoviamolo Darmian, rinnoviamolo, perché è utile averlo come jolly, e tutto, ha delle caratteristiche, che magari non vengono fuori, che però sono comunque utili, ma, nella gerarchia, dei ruoli, nel capire, chi ti dà di più sul campo, in base a quello che ti serve, al ruolo che deve ricoprire, all'interno del sistema, che utilizzi in campo, è su quello, c'è poco da fare, e la gerarchia, per me, è, Dunfries Darmian, poi, concludendo sulla parentesi, sapete benissimo, che io l'avrei ceduto Dunfries, perché comunque, Dunfries è di poco, superiore a Darmian, ha dei limiti importanti, ha delle virtù importanti, rispetto a Darmian, ma alla fine, la media è poco superiore, quindi io avrei cercato, sinceramente, dato che il giocatore, è disposto ad andare via, vuole andare via, non è utilizzato il meglio, bim bum bam, eccetera, e considerando anche che, comunque andrà via, e Darmian ha 35 anni, praticamente, avrei cercato di vendere Darmian, tenere la garanzia, scusatemi, vendere Dunfries, tenere la garanzia Darmian, e magari cercare di investire, su un altro giocatore, esistono i giocatori, i giocatori esistono, basta saperli andare a cercare, Bellanova, ce l'avevamo tra le mani, ce l'avevamo tra le mani, e ha dei dati, che sono superiori, sia a Dunfries, che a Darmian, io all'epoca, ero molto prudente, no? Pur facendo gana di complimenti a Bellanova, diceva, vabbè, ma prendiamolo, riscattiamolo, come per fare il vice, e migliorerà, magari sull'aspetto difensivo e tutto, ma già all'epoca, io ve lo dimostrai, ancora prima che venisse all'Inter, sempre con i dati, già all'epoca, ancora tre anni fa, di fatto, quindi, era comunque, diciamo, concorrenziale a Dunfries, su una serie di cose, già all'epoca, o addirittura superiore, su altre, doveva comunque integrarsi, capire i movimenti della squadra, certamente, ma, le potenzialità, per essere, come Dunfries, o anche superiore, ce le aveva, ce le aveva, non stiamo parlando di Dunfries, come un giocatore, cioè, per farvi capire, per farvi capire, me l'ho fatto prima, eccoci qua, per farvi capire, mettiamo un giocatore, che conoscete molto bene, ok, un giocatore, che conoscete molto bene, Akimi, ok, lasciamo stare questa, statistica al SAT, di quest'anno, 7.34, capito, cioè, Bellanova è 7.02, è quasi a metà, come statistica, come average, tra Darmian e Akimi, ok, non è che Akimi ha 13, i giudizi sono quelli, prima dicevo, è tanto 0.10, 0.20 in più, ecco, adesso avete capito, il massimo giocatore, che ci viene in mente, per la fascia destra, è Akimi, guardate, che hit map, che ha, cazzo, vabbè, comunque, il massimo, che ci viene in mente, è Akimi, ecco, il massimo è SAT, 34, non so se qualcuno, può avere qualcosa in più, forse Cancelo, ma forse no, Cancelo forse sarà poco poco sotto, non lo so, proviamo a vederlo insieme, quindi, non nascondo nulla, Cancelo, questo è Euro, non c'entra nulla, dove è che ha giocato, ha giocato misto, forse in Premier League, un po' di tutto, 2023-2024, non è giocato in Premier League, fu in Bundesliga, dove era, in Liga, non mi ricordo, non mi ricordo dove ha giocato, nel 23-24, qua ovviamente è falsato, sto dato, ah, è in Liga, la Liga, 23-24, 7.25, un po' meno di, un po' meno di Akimi, quindi capite che, c'è un po' di differenza, quindi abbiamo buttato via, un giocatore, Bellanova, che era utile, era utile, costava nulla, e siamo oggi con Darmiane Dunfries, che, sì, uno è meglio dell'altro, e quindi io dico, usiamo Dunfries, ma non è che sia nostra gran cosa, eh, siamo deficitari, ecco, mi dimenticavo, per esempio, dall'altra parte, dall'altra parte, noi abbiamo Di Marco, 23-24, che è 7.35, qua è un dato un po' over, cioè un po' boostato, dal fatto che fa molti assist, anche perché batte le punizioni, batte gli angoli, e insomma, è un po' boostato questo dato, prendetele un po' con le pinze, potrebbe essere più giusto un 7.20, ok? Però, capite, dall'altra parte siamo messi così, 7.20, eh, Carlos Augusto, Carlos Augusto, che, molte volte, ha giocato anche da, da braccetto, 23-24, da braccetto, e quindi questa cosa va un po' a scompensare gli dati, è 6.96, quindi potrebbe essere un 7. qualcosa in realtà, no? Potenzialmente. Da una parte, quindi abbiamo un average, che è un 7.10, dall'altra parte, abbiamo un average, che è 6.85, cioè, c'è una differenza sostanziale, tra destra e sinistra, questo è quello che ho sempre voluto, trasmettere, cercare di far capire, e quindi bisognava, adesso, bisogna agire sulle gerarchie, ottenendo il meglio che si può, con quello che abbiamo, ma forse sarebbe stato una buona cosa, agire proprio anche in chiave di mercato, su un restyling della fascia, e ripeto, non aver colto l'occasione di Bellanova, è stata una porcata, su tutti gli aspetti, progettuale, tecnico, tattico, economico, finanziario, futuribile, come patrimonio, potenziale, asset, anche rivendibile, non dico, deve la Nova, grande, deve rimanere all'Inter, no, si potrebbe anche rivendere, capito, porcata totale, e questi dati, ancora una volta, ce lo dimostrano, ragazzi, vi saluto, a prestissimo, video magari molto lungo, me ne rendo conto, però volevo proprio, guardate, siccome di critiche su queste cose, me ne ricevo tante, c'è tanta gente che non accetta il dato, volevo proprio, con estrema trasparenza, farvi vedere, più tool, più dati, in forma diversa, per farvi capire, che non sto prendendo quel tool, perché è, ma tutti i tool, possibili, ecco, che ti danno varie statistiche, matchati uno con l'altro, e tutti vanno in una direzione, ben specifica, ecco, quindi, più di così, ragazzi, non posso fare, veramente non posso fare, vi saluto, a prestissimo, e ovviamente, forza Inter!